Compie 62 anni la mostra della ceramica di Castellamonte, ma non in vecchia. La manifestazione è unica nel suo genere, che presenta le famose stufe, ma anche sculture, oggetti di design, artigianato tradizionale, festeggia con vecchi e nuovi amici, ceramisti in arrivo da Faenza, dalla Baia della Ceramica in Liguria, da Lucca, Roma, Montelupo Fiorentino e dalla Francia. Un'occasione prestigiosa per gettare uno sguardo aggiornato sulla contemporaneità della scultura in ceramica. Presentata nei locali di Regione Piemonte, sponsor insieme a Città Metropolitana della Rassegna, la 62esima edizione, dal 19 agosto all'11 settembre, mette al centro gli amici di Faenza, per aiutarli dopo la disastrosa alluvione dell'Emilia Romagna. I nostri amici di Faenza, i quali hanno subito, come sappiamo, questo brutto colpo dell'alluvione, e molti amici hanno avuto dei grossi danni. Noi abbiamo il direttore dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, che ha praticamente la casa, non ce l'ha più. Abbiamo il Museo Carlo Zauli, che è stato molto danneggiato, e il presidente della giuria del concorso Ceramics in Love, Matteo Zauli, che ha avuto la forza e ci ha dato l'onore comunque di venire a vedere le opere e a giudicarle. Appuntamento allora a Castellamonte con il cuore. Assolutamente sì, con il cuore, il 19 di agosto all'inaugurazione, alle ore 17.